Al via i massimi campionati dilettantistici siciliani tra sabato e domenica cominceranno i campionati di eccellenza e promozione. Per quanto riguarda il campionato di eccellenza ben sei squadre della provincia di Trapani al via. Vediamo le partite in programma. Atletic Palermo Aspra, Castellammare Mazzara, Misilmeri Casteldaccia, Folgore Accademia Trapani, Fulgatore Castelbuono, Geraci Profavara, Nissa Oratorio San Giro e Giorgio, Unione Sportiva Mazzara 1946 Sciacca. Quindi il Mazzara comincerà domani sabato in trasferta sul campo del Castellammare dopo essersi qualificato al turno successivo di Coppa Italia eliminando la concittadina Unione Sportiva Mazzara 46 che giocherà invece in casa domenica contro lo Sciacca, un'altra delle formazioni allestite per puntare in alto. Sicuramente uno scontro tra due tra le squadre più forti del campionato. Altro derby della provincia di Trapani alla prima giornata, quello tra Folgore Castelvetrano e Accademia Trapani. Molta curiosità per vedere le due squadre, mentre il Fulgatore giocherà, come abbiamo detto, contro il Castelbuono. Insomma, un campionato di eccellenza che vedrà ai nastri di partenza tante squadre agguerrite. I tecnici dicono che Nissa e Profavara in questo momento sembrano le favorite, ma sicuramente ci sarà da lottare fino all'ultimo minuto e non è detto che qualche squadra della provincia di Trapani non possa inserirsi. Comincia anche il campionato di promozione che vede il Football Club Marsala in asti di partenza dopo aver fallito il primo obiettivo stagionale, quello della Coppa Italia. Anche il Marsala comincerà sabato in trasferta e suo campionato sul campo della Parmonval. Vediamo qual è l'elenco delle partite. Cus Palermo-Gemini, San Vitolo Capo-Partini-Caudacea, Impedoclina-Bagheria, Giardine-Lese-Castel-Termini, Icarenze-San Giorgio-Piana, Camarat-Alcamo e Parmonval-Marsala. Marsala quindi favorito, ma bisogna stare attenti anche al San Vitolo Capo, squadra che ha sfiorato la promozione l'anno scorso e che ha eliminato gli azzurri dalla Coppa Italia. Si dice che anche il San Giorgio-Piana abbia allestito una forte formazione. Quindi in bocca al lupo a tutte le nostre squadre comincia il circo del campionato dilettantistico siciliano.